Oggi chiedi il tuo compleanno, onomastico, io fortunata voglio farti un'intervista. Adesso cominceremo con le domande. Va bene. Come ti chiami? Giuseppe, sei oggi il mio onomastico. Quanti anni hai? Eh, tanti eh, 40 anni. Sì, è molto vecchio. Grazie. Che lavoro fai? Eh, lavoro fai in comune, tutto fare. Quando fai un'intervista, quanto paghi? Aspetta, ma se non mi giro la testa, dimmi. Quanto paghi? Io quanto pago per fare l'intervista? No, sono le persone che pagano a me per fare l'intervista. No. Mi offrono il caffè. No, allora. Ripeto. Giuseppe, dimmi. Tu hai la barba? Eh, sì. Ma oggi me la taglio, eh. Hai gli occhiali grandi? Sì. Eh, hai un occhio piccolo e un occhio grande? Sì. Giuseppe, dimmi una cosa, una cosa su di una persona, o di un animale o di una cosa. Una cosa in che senso? Cosa vuoi che dica? Dico. Cosa penso? Sì. Allora, pensiamo della mamma, ad esempio, cosa penso della mamma? Sì. È una brava lavoratrice. E poi? Ha una figlia stupenda. E chi è? Scusa. Fortunata che sei tu. Che sei molto intelligente. A me non mi piace di sempre proprio e non lo voglio bene. Dai, non è vero. Ecco, quanto mi vuoi bene? Adesso te la faccio io la domanda e chiudiamo. Però togli la mano se non ti vedi. Sì. Da 1 a 10, quanto mi vuoi bene? Zero. Ok, io invece te ne voglio 11. Non mi piace. Addio, Giuseppe. Ciao. Grazie.